Purtroppo c'è stato confermato che nonostante l'imponente aumento del Fondo Sanitario regionale, cosa che non è mai avvenuta negli ultimi 15 anni, addirittura più 220 milioni di euro insieme alle risorse Covid, questa sanità mal gestita in questi mesi è in disavanzo. Il deficit è oltre 100 milioni di euro. Stanno lavorando per le cosiddette partite straordinarie da un lato e con la continua ed ulteriore richiesta della copertura da parte del Governo nazionale circa le perdite così significative di questa regione. Il dato che emerge con tutta la chiarezza necessaria che questa Commissione ha ulteriormente svelato è l'assenza di governance e di programmazione da parte del Governo Marsilio e della sua giunta regionale che altro non fanno che ribaltare tutti i problemi della cattiva programmazione di questo Governo regionale al Governo nazionale. Noi continueremo a lavorare in tale direzione, a svelare, a pungolare, perché non ci siano i tagli dopo questa scellerata assenza di programmazione della legislatura Marsilio. Grazie.